Buongiorno a tutti ragazzi, innanzitutto vi volevo ringraziare per aver raggiunto e superato gli 800 iscritti, adesso siamo a quota 830 circa e spero di continuare così sempre a crescere sempre di più, perché comunque è una cosa bellissima che una grande passione si sta trasformando in un vero e proprio lavoro, chiamiamolo un lavoro anche che non è da tutti, una passione che non è da tutti, perché la passione della meteorologia è molto difficile che soprattutto uno come me di 15 anni ce l'abbia poi soprattutto al giorno d'oggi che pensano tutti quelli dell'età mia ai videogiochi e cose varie, quindi spero di continuare così e di raggiungere presto i 1000 iscritti che per me sarebbe un grandissimo traguardo, ma anche aver raggiunto gli 800 iscritti è un grandissimo traguardo perché appunto fare i video della meteorologia, sai, sono video corti, tutti un minuto, due minuti poi la meteorologia non interessa a tutti, quindi è anche difficile, diciamo, emergere con un canale sulla meteorologia non è come un canale di videogiochi che conta milioni e milioni di iscritti, poi fai video lunghi quindi ci metti meno tempo per raggiungere le ore necessarie di visualizzazione vi ricordo di restare aggiornati con il canale perché tra qualche ora uscirà un nuovo video sugli aggiornamenti degli accumuli previsti in neve per il 28, che sono un po' diminuiti, però non di tantissimo comunque restate aggiornati, ciao!